. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 23 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Con il sole contro. In realtà nella nota canzone napoletana il sole sta in fronte, ma nel cielo odierno assisterete al suo passaggio all'opposizione. In scorpione nel ruolo di guardione rimane Marte, battagliero e propositivo in campo professionale, mentre il raggio della nostra stella a partire dal pomeriggio si occuperà dei sentimenti, scandagliando ogni regione del vostro cuore. Amicizia e amore tutto a meraviglia, con il placet di Venere e da stasera anche della luna arietina, ecco perché siete così di buon umore disponibili con tutti e per nulla propensi a dar peso ai piccoli contrattempi che di tanto in tanto capitano anche a voi, ignorarli ve li farà apparire più leggeri. Dubbi e notevoli contrasti possono pervadere la coppia che così sente il peso delle incomprensioni e il rapporto potrebbe incrinarsi presto. Allontanamento di persone a cui si è interessati, i single neri sentiranno particolarmente. Se venite a conoscenza che qualcuno sta sparlando di voi o sta tentando discreditarvi, fate esercizio di pazienza e non lasciatevi prendere dal nervoso. Parlate con persone che desiderano ascoltarvi. Favoriti viaggi e gli spostamenti. Buoni rapporti con figli e partner. Qualche spesa per la casa. Ambienti eleganti ti aiuteranno a tenere su il morale. Arrivano notizie da lontano. Ottime opportunità per cambiare casa o acquistarne una, e non dovete essere necessariamente architetti o progettisti per progettare casa vostra così come l'avete sempre desiderata. Oggi, a causa di un mercurio in aspetto negativo, potreste avere problemi di comunicazione, siate cauti e fate attenzione a come vi ponete con gli altri. Se siete irrequieti, mettetevi l'animo in pace, nel primo pomeriggio lo sarete di più e senza motivo. Ma niente paura tutto procede con regolarità e in serata vi sentirete meno agitati e più rilassati. A volte vi perdete in un bicchiere d'acqua, siate più risoluti e mantenete fermo il vostro proposito a tutti i costi. Presto avrete delle novità importanti. Poche speranze per chi oggi attende una notizia di una certa importanza, tutto è rinviato a domani o alle settimana successiva. Siete tentati di tornare sui vostri passi. Perché non offrirvi la possibilità di un nuovo inizio? Ascoltate i suggerimenti del cuore. Emozioni e sensazioni risvegliano il vostro lato artistico. Tenetevi pronti ad approfittare di un evento inatteso per consolidare la vostra posizione sociale. La luna e venere sono benefiche oggi, ma in contemporanea sole e mercurio negativi. E il gioco dei transiti è sereno, variabile, lo gestite con il consueto piglio e la tipica fermezza di polso di cui il vostro segno vi ha dotati. Luna malmostosa per tutta la giornata allo zenita avvolta dal nebuloso Nettuno quasi fosse una paschmina di morbido cachemire. Invece no, sono solo volute di fumo, fantasie assurde e irrealizzabili che dovreste lasciarvi alle spalle per guardare avanti in direzione della realtà. Grossi impegni di lavoro, ma altrettanto forti le rivalità che li accompagnano, effetto di Marte nella vostra sesta casa, fa autore non solo di tensioni lavorative, ma anche di stati infiammatori e arrabbiature che incidono sulla pressione. Migliore il tardo pomeriggio col passaggio della luna nel segno amico della riete che vi invita a scaricare la tensione in palestra per poi uscire a divertirvi. Anche il sole cambia di segno passando nell'appassionato e sincero sagittario. Se il partner c'è vi basterà un'occhiata per capirvi sentendovi un essere unico, se manca si creano le condizioni astrali per l'incontro fatale. Amore ed eros. Cuore felice, in coppia, con i vostri bimbi, con gli amici o abbracciati al quattro zampe, l'essenziale è scambiare affettività e voi, col vostro scansonato sorriso, ne avete parecchia. Un po' più confusa e forse un filo falsa la relazione con i suoceri, ma di questo dettaglio sono piene le barzellette, non vedono l'ora di sparlarvi alle spalle. Lavoro e denaro. Iniziate la giornata con le idee confuse, peccato proprio il giovedì, sparti acque della settimana, da oggi in poi i giochi sono fatti. Attenti perciò a non cadere in confusione, il rischio di commettere grossi errori oggi si fa consistente, soprattutto se, presi per la gola da un ritardo, tentate di rimediare agendo in fretta e furia. Qualcuno da dietro l'angolo vi osserva e prende nota, mettendovi un serio imbarazzo. Patti chiari con il socio o l'interlocutore in affari, se la vostra relazione non è proprio amicizia ci si avvicina molto. L'essenziale è parlarsi sinceramente evitando ogni forma di rivalità, nel vostro staff ce n'è già abbastanza, non mettetevici anche voi. Denaro ben investito nell'acquisto o nella ristrutturazione di una cassetta, con il riscaldamento climatico un piccolo rudere in montagna da riattare con calma vi farà buon gioco, avrete il vostro piccolo polmone verde dove ricaricarvi ogni volta che sbarellate. Benessere. I virus di stagione circolano che è un piacere, ma poiché bronchi e polmoni nel vostro segno sono delicati fate attenzione. Causa dell'insonnia e dell'attenzione emotiva non solo le discussioni aziendali, anche il fegato capriccioso, arrabbiato con voi per il vostro stile di vita così stregolato. Peggio ancora se per dormire vi aiutate con la pastiglietta. Subito ai ripari con la palestra e con uno stile di vita più spartano. Chi è già pratico saprà indirizzare novellini come voi. Infine una dritta per quando dovete svolgere le faccende domestiche e non ne avete voglia, mettete un disco, spazzate e spolverate ballando, sarà tutta un'altra cosa. Per lei, se il lavoro qualche grattacapo ve lo procura, tra rabbia e incertezza, a compensarvi torna la ribalta all'amore, quando il cuore è appagato tutti i guai appaiono più lievi, perché ora avete qualcuno con cui condividerli. Per lui, collaborazione, non competizione, una formula in cui credete profondamente e se venisse applicata anche tra il vostro staff o terresti i migliori risultati in tempi brevi. E allora propugnatela. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.